Quello che penso sul calcio è uno soltanto, ci sono troppi affaristi e troppi compromessi nonché altri troppi luoghi comuni che caratterizzano quello che è successo in questi giorni e quello che succederà prossimamente, ma non solo in Serie A, bisogna partire dalle categorie inferiori, dai dilettanti regionali fino ad arrivare alla Serie C dove girano troppe scommesse e troppo calcio malato, sottoscritto dalla criminalità organizzata.